I giovani che vogliono riprendere un po' di futuro e salvarlo dalle minacce del coltello, diciamo forte che... Ecco qua il finale, è andata eh! È andata, è andata purtroppo! Adesso si scoprono tutti a favore della lotta per il cambiamento climatico senza però considerare che la cementificazione, altre grandi opere come per esempio gli inceneritori probabilmente contribuiscono al cambiamento climatico, quindi insomma secondo me è bene farsi vedere. Il nostro paese è pieno di progetti inutili che lasciano dei risultati sui territori veramente devastanti, inquinamento e poi c'è tutto l'aspetto delle tangenti, la sostanziale inutilità di questi progetti, tutti questi soldi che spesso sono anche finanziati dal pubblico dovrebbero essere investiti in servizi sociali, nella scuola, nella sanità, insomma. Grazie!